Si chiama Amanda Lewis, vive a Kirkdale nella provincia di Liverpool, ci troviamo in Inghilterra e pensate che aveva cominciato a mangiare, ad assaporare un cheesecake, un tipico dolce che vi ricordo è per così dire un dolce molto prelibato in quelle zone lì dell'Inghilterra che vi ricordo ha come componente aggiuntiva la presenza del formaggio infatti da qui prende il nome di cheesecake, cheese infatti in inglese significa proprio formaggio lo aveva comprato a domicilio da un negozio di una famosa catena alimentare però si è accorta che dopo qualche cucchiaiata qualcosa proprio non andava in quel cheesecake che aveva deciso di assaporare infatti pensate che all'interno della famosa torta a base di formaggio, quindi di latte si era venuta a creare della muffa di colore verdastro così ha iniziato a vomitare a più non posso mal di pancia, molto di stomaco, quindi molto molto forte relativi giramenti di testa, dolori articolari ciò che in qualche maniera però stupisce di più è la replica che i responsabili del punto vendita a cui la sorella di Amanda ha telefonato protestando e chiedendo rimborso dell'ordine complessivo pari a circa 20 sterline e per l'appunto pensate insomma alla reazione della ragazza, della donna una storia triste, una storia non piacevole ovviamente da dire ma che purtroppo da come si legge su internet è pura realtà, è pura verità, non è fantasia bene, anzi non bene male il video termina qua una storia triste di cui vi ne ho parlato ampiamente saluti, a presto, grazie